Ragazzi ciao, sono in una situazione disastrosa, sono appena tornata alla palestra, però voglio fare il riso alla cantonese infatti ho preparato qua, sto facendo i piselli, li ho messi con un po' d'acqua, purtroppo non ho la cipolla, ci voleva anche la cipolla quando ho buttato i riso basmati, lui l'ho messo a tagliare il prosciutto a dadini, prosciutto cotto, vero? Yes! Guardate, è tutto bello carnuso, cioè senza grasso e poi cos'altro ci vuole? La salsa di soia, comunque è un risotto alla cattorese fit e Kubi che vuole i prosciutto bellini, dagli un petitino dei prosciutto Già gliel'ho dato Gliel'hai dato? E' un altro petit? Poco poca Poco poca Ma è tutto il prosciutto, Kubi Adesso prendiamo i riso basmati, dov'è? Perchè metti il prosciutto e il limone sul prosciutto? Assaggia Si fa? Assaggia Proviamo, è il segreto, lui ne capisce di mangiare ragazzi, fidatevi, fidatevi di Dario Mmm, ma la trippa Voto a Dario, voto a Dario, voto a Dario Mmm, buono Ragazzi, un passo fondamentale sbattere due uova, una a testa, ma lui è bravissimo a sbattere Guardate come sbatte, tipo un pullatore, è vero? Se lo volete, lo sbattitore umano, ok, ve lo manda a casa Ma no, diventa chiarista, mentre che sei veloce diventa chiarimato, è bravissimo a sbattere l'uovo, amore Ma, cioè, come l'ho sbattito, non ce l'ho mai visto, meno dello sbattitore Sei un po' gonato Ma non ci credo Sei troppo bravo Mi sai che mi bastava un giusto? No, ho detto che sei bravo Bravo Ma, cioè, mai... Guarda che mi è diventato chiaro Ah, ma, mi stanche, eh, sei andato pure in palestra, non c'è un braccio di ferro No, 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 no Lo giriamo anche, guarda, girandolo Ah, ecco, la tecnica è quella di girarlo e sbatterlo Guarda come si apre Ok Bravo, sei bravissimo, giuro Per magia si è fatto l'uovo Per magia si è fatta Viva Dammi un po' di pepe E' buonissimo Buon bene Sì, grazie No, dopo me ne metto altri 8 kg Ma no, è bello, è invitante, vero? Bellissimo Buon appetito Assaggia, dimmi, dicci com'è in diretta Ah, con il cucchiaio, no? Io mangio con la forchetta Io preferisco con la forchetta, sinceramente Vai, assaggia Un fembellino, generoso Com'è? Ah, addirittura È la fama Buon appetito, yummi Gatto pulito Ah, ma, spende la telecamera E' la spinta Eh, buon appetito che vuoi che sei ceffiarito No Ah, 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 ah Oma, non spende No, no, non spende Non, che le si credono veramente Mangia, dai, sta scherzando ragazzi No, io mangio sta roma Se lo mangi a pupi Ma quello è per pupi, va a pupi Ma poi asprendea E' spinto E' la pupia che ceffiarla Ma qua si ceffiarì, ti mangio Tu devi cercare i lati, puro la coca cola qua! Oh, puro la coca cola, posa! Eh, puro la coca cola! Posa! Ma, posa! Ragazze, volevo dire che è buonissimo davvero! E' bene? E' bene! Lei si è mangiato, ti cerca di qua! Non è bene! Muzzarello pure nel tuo cuore! Ciao!